All'inizio del XX secolo nasce in Giappone, grazie all'intuizione di un grande esperto dell'arte manuale, un trattamento distinto dal massaggio, denominato shatsu, pressione perpendicolare e costante sul corpo. Per la prima volta nella storia delle arti manuali si scopre che la costanza pressoria sul corpo determina un nuovo approccio per l'equilibrio della persona, facendo nascere una nuova disciplina e professione autonoma. In 1919, the first book on the discipline shatsu was published in Japan by Master Tamai Tenpeki. Shatsu is officially 100 years old. We are here to thank its inventor, Tamai Tenpeki, and its masters, Tokujiro Namikoshi and Shizuto Masunaga, who with extraordinary intuition, creativity and passion were able to spread shatsu professionally all over the world. Nel 1919 è stato pubblicato in Giappone il primo libro sulla disciplina shatsu a cura del maestro Tamai Tenpeki. Lo shatsu nel mondo ha ufficialmente un secolo di vita. Noi siamo qui a ringraziare il suo inventore Tamai Tenpeki e siamo qui a ringraziare i grandi maestri Tokujiro Namikoshi e Shizuto Masunaga, i quali con straordinaria intuizione, creatività e passione hanno saputo diffondere professionalmente lo shatsu nel mondo. Nel 1919 è stato pubblicato in Giappone il primo libro sulla disciplina shatsu sotto la supervisione del maestro Tamai Tenpeki. De questa maniera il shatsu ha cumplito ufficialmente un secolo di vita. Nos sentimos in la obligazione di agradecer a suo inventore Tamai Tenpeki, come anche i maestri Tokujiro Namikoshi Shizuto Masunaga, che con straordinaria intuizione, creatività e passione, sapono diffondere professionalmente il shatsu nel mondo. C'è al Japone, nel 1919, che il primo libro sulla disciplina del shatsu è pubblicato dal maestro Tamai Tenpeki. Il shatsu ha officiellamente 100 anni. Siamo qui per ringraziare il suo inventore Tamai Tenpeki, con i maestri Tokujiro Namikoshi e Shizuto Masunaga, che grazie ad una straordinaria intuizione, creatività e passione, hanno su diffusere professionellamente il shatsu nel mondo. Il shatsu è stato pubblicato nel mondo. Nel 1909 è stato pubblicato il primo libro sulla shatsu metodo, scritto dal maestro Tamai Tenpeki. Il shatsu è officiell 100 anni. Il shatsu è stato pubblicato il mio primo libro sull'immagine di una squadra di stazione del maestro Tamai Tenpeki. Il shatsu è stato pubblicato nel giornale. fu pubblicato nel Japone il primo libro sobre la disciplina Shatsu attraverso il mestre Tamai Tenpeke Il Shatsu nel mondo ha, oficialmente, un século di vita noi stiamo qui per ringraziare il suo inventore Tamai Tenpeke e stiamo qui per ringraziare i mestri Takujiro Namikoshi e Shizuto Matsunaga i quali, con straordinaria intuizione, criatividad e paixão potrebbero difundir profissionalmente Shatsu nel mondo nel 2019, nel mondo del Shatsu è stato il primo libro di Tamai Tenpeke e la storia del Shatsu nel mondo è stato il libro di Tamai Tenpeke .. e,?! .. .. Il nostro corso gratuito, il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito, il nostro corso gratuito, il nostro corso gratuito.